In riva allo stretto Sponda Reggio Calabria è tornato a splendere il sole. Anche se già in mattinata si paventava un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Peggioramento che è arrivato puntuale con una consistente ma per fortuna intermittente pioggia. Lo scenario di questa mattina, soprattutto per quel che concerne i litorali, è abbastanza inquietante. Da Villa San Giovanni a Bocale le immagini sono decisamente sovrapponibili, con spiagge risucchiate dalle forti mareggiate e con terriccio e detriti sulle sedi stradali. Le situazioni di maggiore allarme riguardano Gallico e Catona nella zona nord di Reggio e Bocale e Pellaro nella zona sud. Si sta provvedendo a rimuovere i residui presenti sul manto stradale ma il lavoro ancora è decisamente lungo. Onde evitare ulteriori danni i pescatori hanno provveduto provvisoriamente a spostare le barche in aree più sicure dove l'impeto del mare non le possa raggiungere. A Villa San Giovanni dove è stata disposta la chiusura delle scuole per l'allerta maltempo è crollato un tratto di lungomare. Il cedimento è avvenuto per l'esaltezza a Cannitello, all'altezza del Faro. Le forti onde di ieri hanno risucchiato la sabbia sottostante provocandone il crollo. Decisamente più tranquilla la situazione sul lungomare di Reggio Calabria dove non si registrano per fortuna grosse problematiche. Nel frattempo Palazzo San Giorgio ha predisposto un apposito tavolo tecnico per quel che concerne i danni del litorale Regino. L'assessore alla protezione civile Giuseppe Martorano ha riferito che l'amministrazione comunale ha già effettuato dei sopralluoghi avviando anche la conta dei danni.